No, la cosa brutta è che c'ho il telefono al 70%, infatti ho portato un Macbook, che devo finire in quel video di te nel vlog di ieri, con anche caricatore, così in caso, vabbè, con un barettino, un attimo di chill, verso le 12. Buono. Continuo lì, ragazzi, che costano un botto. Ah, no, le 12. Wow, bello grosso, abbiamo preso due regalini che ho messo qua nello zaino. E qui sì che ci sono turisti. Bello, c'è tanta gente. Bellissimo, questa è la strada, poi c'è niente di là. Voto all'unisona 10. Qui c'è il muro per i morti del Covid. Caruccio, nulla di che. Trovato il cibo. Buono, buono. Another one. Questa sì che è la roba bella. Sì, sì, questo. La meraviglia, la bellezza, l'arte. Wow, particolare. Non è stata conosciuta dagli italiani? Wow. Ecco, questo fa molto mood film. E zona che si abbina al colore del mio telefono, non per dire. Cioè, why, why? Comunque si è un po' radical. Comunque mi fa scassare come ogni tot, macchina di lusso, macchina di lusso, macchina poderosa, ci sono una 500. Tour dei supermercati inglesi. Che è tipo un mega discount. Assolutamente sì. Cioè, se sarebbe già neanche un latte millimune. Qui c'è della Masus. Buono. Masus. Vediamo di un po' migliorare questa giornata, non proprio stop. Andando a mangiare da Jimmy's Burger, che dove siamo andati due steri fa, nel primo vlog. Volevi davvero evitare? Eh, lo marcio.